Ora aspettiamo, ci sono stati questi due episodi molto importanti, però insomma vediamo che cosa succederà dopo l'estate, insomma sai, mi sembra così, a essere molto generosi, una persona sempre più confusa, ecco, a essere molto molto generosi. Però, ripeto, la sua coalizione, i suoi elettori, le persone a lui vicine, insomma, hanno digerito la sua mancanza di senso dello Stato, di senso delle istituzioni, le sue aggressioni costanti alla magistratura, il fatto che il suo braccio destro sia stato condannato in primo o secondo grado, condanna confermata dalla Cassazione, per corruzione della magistratura, della magistratura che ha corrotto per Berlusconi, che l'altro suo collaboratore in primo grado dell'Utri sia stato condannato per mafia. Quindi, insomma, tante cose sono state digerite. Ripeto, il millesimo di queste cose non sarebbe stato digerito in Francia, in Israele, in Inghilterra, in Spagna, in Germania, eccetera. Ora, insomma, vediamo, no? Insomma, vediamo cosa, quanto di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, poi, insomma, resterà per sempre nella consapevolezza nostra. Ecco.